Ringrazio tutte le persone oggi presenti, ringrazio il presidente del Consiglio, i ministri che sono venuti per ricordare e iniziare, anche se di fatto sono già iniziate con i primi eventi, il primo è stato agli uffizi l'anno scorso, quello che sono le celebrazioni di 500 anni dalla morte di Leonardo. Noi abbiamo deciso anche con il ministero dell'istruzione di ricordare un Leonardo più che altro che va dalla morte verso la vita, per cui con eventi che termineranno nell'aprile del 2020. Leonardo è per noi un Leonardo per tutti, per cui ci saranno una serie di iniziative su più livelli. Ringrazio il comitato scientifico che ha riconosciuto e dato il riconoscimento a una serie di eventi che erano stati presentati, come dice il nome stesso del comitato, con una valenza ovviamente scientifica, didattica, di un certo livello, un certo tipo di approfondimento. Però poi all'interno abbiamo deciso di mettere anche tutti quelli che possono essere le varie sfaccettature per ricordare Leonardo. Leonardo nelle sue tante forme, perché era un genio, un genio italiano, un genio poliedrico, che aveva una visione e aveva qualcosa da dire su ogni argomento. Io presenteremo ora e poi ci sarà comunque un sito dove poter prendere tutti gli eventi. Oggi sono 500, però è venuta un po' una febbre di Leonardo, chiamiamola così, continuano ad arrivare iniziative da tantissimi enti, sia pubblici che privati, perché vogliono ricordare tutti Leonardo e questo non può che renderci felici, per cui sarà di fatto un work in progress. Voglio iniziare ringraziando le Zecche e il Poligrafo di Stato, che ci ha portato qua, dei vecchi progetti già fatti di monete, in più ci sono la moneta da 2 euro del 2019 e in più durante quest'anno ci saranno altre stampe sempre per ricordare Leonardo. Poi ci sono poste italiane che faranno degli annulli filatelici e in più il 2 di maggio usciranno 4 francobolli per ricordare Leonardo e ricordare i 500 anni dalla morte di Leonardo, che saranno la scapigliata, l'adorazione dei magi, lo studio dell'occhio e il ritratto di musico. Poi avremo una serie di eventi, mi piace che io ora sono nella parte dei ringraziamenti perché poi dopo i ministri diranno ognuno cosa verrà fatto nei singoli ministeri, però penso veramente che sia indispensabile e giusto ricordare tutti questi enti pubblici che comunque si sono dedicati a ricordare Leonardo, per cui abbiamo Fincantieri e Enel, Enel ha anche degli eventi che sono studiati e disegnati assieme a esteri, poi Google Art che sta sviluppando un progetto, so che già è in contatto con una serie di musei italiani e non solo dove all'interno ci sono opere di Leonardo per cercare di fare un progetto specifico dove poter vedere le opere di Leonardo sempre, poterle portare a tutti, portare anche i disegni che come voi sapete non possono essere esposti sempre, per cui dare la possibilità di poterli vedere 365 giorni all'anno e sempre. Poi c'è tutto il mondo dell'audiovisivo che ha sviluppato vari progetti, partono da film, da una serie tv, da dei corti, docufilm, una serie tratta da un cartone animato che si chiama Missione Mona Lisa e i giffoni dedicherà quest'anno, visto che è l'anno per i giffoni dell'aria, a Leonardo, per cui anche lì i ragazzi potranno cimentarsi in quello che è il ricordo di Leonardo. Per questo e queste iniziative legate all'audiovisivo ringrazio Sky, la Rai, spero che anche altri si uniscano come ringrazio i giornali che stanno facendo approfondimenti su Leonardo, ricordo ad esempio Quenne Nazionale che fa proprio un inserto su Leonardo dove scrivono poi anche persone, non solo del comitato, ma altri che sono e stanno dedicando quest'anno a iniziative su Leonardo. Non voglio dimenticare gli enti locali, perché hanno fatto veramente tanto, se non ci fossero stati gli enti locali, probabilmente molte iniziative non le avremo sapute. Ci sono anche altri enti locali che si stanno sempre per questa febbre di Leonardo, aggiungendo alle varie iniziative. Ultima cosa, però questo sarà poi tema di un'altra conferenza stampa, è per il 2 maggio. Il 2 maggio, che è il giorno della morte di Leonardo, faremo una serie di iniziative nelle città che più lo rappresentano e saranno delle iniziative che coinvolgeranno la cittadinanza, però questo lo diremo poi in un'altra conferenza stampa. Proprio per Leonardo, dalla morte alla nascita, abbiamo qua, e lì c'è un suo quadro, lo ringrazio, Corrado Veneziano, che è un artista che ormai da più di un anno e mezzo sta studiando e approfondendo quello che è il codice atlantico. È uno dei grandi nostri artisti che la Francia ha riconosciuto per il ricordo e le celebrazioni di Leonardo in Francia, ma non solo, perché penso che lo portino anche oltreoceano.